Sto mandando ripetizioni. Ok. Ciao, benvenuto alla nuova edizione del Gran Galà di fine stagione. Ci fa molto piacere averti qua con noi. Con chi abbiamo il piacere di parlare? Da dove vieni? Ivan, da Pisino, da Croazia. Ciao Ivan. È la tua prima volta al Gran Galà. Cosa ti ha spinto a partecipare? No, no, non è la prima volta. Sono qua per 5 anni. Mi spiego 5 anni. Perché sono stato la prima volta. A cosa mi ha spinto? No, è un amore per le Alfa e per la compagnia buona. Per Rudy che è un grande uomo. Insomma, una domenica fantastica. Bene. Cosa ne pensi di questa manifestazione, degli organizzatori e del club? Ah, il top. Sono tutti i top. L'organizzazione, il club, il massimo. Definisci cosa rappresenta per te l'Alfa Romeo nella vita di tutti i giorni e come vivi la tua passione? Rappresenta la passione per le macchine belle, buone. È un tipo di vita non uguale a tutti gli altri. È speciale, l'Alfa è speciale. Grazie Ivan, ti auguro una buona giornata. Grazie a voi. Grazie.